Francesco e Teresa si sono preparati per questo momento. Abbiamo voluto tanto questo matrimonio e ci siamo. Volevamo qualcosa di particolare e sta venendo fuori una meraviglia. Francesco diceva io non voglio perdere nell'amore. E' amore soltanto se dono. E voi avete capito questo, avete compreso che la vita non va trattenuta, ma la vita va donata. Abbiamo bisogno di due occhi, di un volto, di cui innamorarci. Vi siete guardati, vi siete scelti e avete scelto di donarvi gli uni gli altri. Non c'è fede senza rischio. Non dobbiamo temere, non temere. E voi oggi state dicendo proprio questo, state dicendo ancora una volta il vostro sì alla vita nella fedeltà di ogni giorno. La vostra vocazione al matrimonio diventa testimonianza per altri. Guardando anche voi, la vostra gioia, la vostra felicità, il vostro desiderio di morire l'uno per l'altro, possano dire quanto è bello l'amore. Anch'io voglio questo amore qui.